Sappiamo com'è il nostro lavoro, sappiamo che non si può piacere a tutti, tu piaci a tanti ma non a tutti, per esempio io ti stimo moltissimo perché al di là di quello che dici, di cui non condivido neanche una virgola, sono però consapevole della tua grande bravura, perché da vent'anni Santoro è in televisione e da vent'anni non si parla che di lui, questo vuol dire che Santoro è un personaggio importante del quale probabilmente anche quelli che non condividono il suo modo di fare non possono fare a meno di seguire, io per esempio sono uno di quelli, al giovedì vedo sempre anno zero perché almeno mi arrabbio, però lo vedo e credo che siano in molti ad apprezzare le capacità di Santoro, di tenere destro il nostro interesse e chi oltretutto è in grado di avere dei risultati e va giudicato chiunque sulla base dei risultati non può negare quello che io molto frettolosamente ho cercato di dire. In più vi racconto un piccolo episodio che fra l'altro mi è stato ricordato proprio anni fa da Michele e io ce l'ho sulla coscienza un po' Santoro perché quando ha sostenuto l'esame di Stato per iscriversi all'ordine dei giornalisti e quindi diventare giornalista io ero uno di quei cretini che lo ha esaminato. Quindi vedete voi, io sono convinto che Santoro sia un fuoriclasse ed è questo il motivo per cui gli abbiamo dato il premio come ha detto con molto più garbo e più efficacia di me Paolo Mieli. Non so se vogliono cominciare i miei colleghi. Io posso solo aggiungere, poi darò la parola a Angelo Panebianco e a Michele Santoro che credo che tutti voi abbiate capito il senso di questo premio. Noi mescoliamo persone diverse scegliendole a patto che siano i primi nel loro campo e che siano persone intellettualmente oneste, per bene, che si battono per delle cose alcune voi non le condividerete ma che si battono con ostinazione, con efficacia e con forza. E per noi metterle qui su questo palco assieme a noi, noi stessi della giuria siamo persone che pensiamo cose diverse l'uno dall'altro è una cosa di orgoglio e penso che sia qualcosa di orgoglio anche per Santa Margherita Ligure. È un metodo che se funzionasse più nel paese, il paese andrebbe meglio. Rispettare le opinioni diverse, non cercare di mordere al calcagno della persona ma di rispondere con argomentazione su argomentazione. E come abbiamo detto nella motivazione, Angelo Panebianco è un campione di questo modo garbato di polemizzare. Tu ti riconosci, Angelo, in questa descrizione? Sì, mi riconosco nel senso che cerco di attenermi a quella regola. Naturalmente non sempre ci si riesce, si tenta di farlo, poi tutti noi commettiamo errori naturalmente, errori di valutazione. Io uso la tecnica per esempio di rileggere articoli miei ma non diciamo di cinque anni prima per capire dove avevo sbagliato e naturalmente molte volte scopro che avevo sbagliato perché cerchi freddamente di analizzare una situazione e poi avendo pochi dati di fatto perché quando valutiamo i fatti che corrono sotto il nostro naso abbiamo una conoscenza parziale anche se possiamo cercare di informarci al massimo sulla situazione e poi scopri dopo molto tempo che avevi sbagliato il giudizio oppure scopri di essere stato ingiusto in un giudizio su una posizione e soprattutto di questa seconda cosa mi rammarico quando a distanza di tempo scopro che in realtà il mio giudizio avrebbe dovuto essere più cauto, forse più meditato. Però sì, mi riconosco nel senso che questo è esattamente ciò che tento di fare anche se non sempre ci riesco. E adesso a Michele Santoro Ilaria D'Amico prima raccontava appunto che lei ha cominciato la sua carriera giornalistica in un programma dove c'erano Vittorio Feltri e Sandro Cursi anche questo fa parte del premio, fa parte di questo modo di guardare nostro, di guardare alla politica, all'Italia come adesso.